Refrescia ora vai. Benvenuti, bentornati qui nello studio di Radio Design. Oggi siamo con una persona veramente che devo dire al top possiamo dirlo. Siamo con il grandissimo David. Allora un attimo che partiamo con la registrazione. Diamo un attimo qualche secondo a David per fare la condivisione e poi partiamo. Siamo anche qui live su Instagram. Oggi parliamo del museo delle ceramiche Rometti. È una cosa veramente particolare. Adesso partiamo con la diretta. Direi che ci sono. Ci siamo. Bentornati su Radio Design. Ora finalmente stiamo registrando con David. Ciao David. Ciao Riccola. Allora David è il direttore di un museo. Quale museo? Raccontaci. È un piccolo museo di Umberti, del museo delle ceramiche Rometti. Ok. Detto così può sembrare nulla. Invece è una cosa gigantesca. Che partita sta già esplodendo possiamo dirlo. Sì. Io sono già esaltatissimo per tutto quello che lui mi ha raccontato. Cerchiamo in dieci minuti di raccontare un po' tutto quello che ci siamo detti in un'ora precedentemente. Assolutamente sì. Che cos'è questo museo? Dove si trova? E cosa farete all'interno di questo museo? Allora il museo si trova a Umbertide. All'interno del FAMO che è una fabbrica moderna che è una struttura geniale tra l'altro anche quella che è una piccola cittadella della cultura per Umbertide che c'è il museo appunto delle ceramiche Rometti, c'è il cinema al piano medio e al piano superiore c'è l'archivio comunale e la biblioteca. Quindi proprio un luogo culturale a 360 gradi e da lì infatti l'hashtag che tra l'altro di questo non ti ho parlato che mi sono inventato che è FAMO Cultura. Bello questo FAMO Cultura ci piace. Questo museo racconta, custodisce e trasmette la memoria di questa azienda manifatturiera di Rometti di Umbertide che è aperta dal 27, non ha mai chiuso. 1927. 1927, 90 anni, 91 anni e fa, faceva e fa delle cose assolutamente pazzesche che la prima volta che le ho viste ormai quasi un anno fa sono rimaste effettivamente a bocca aperta. Sono veramente oggetti di design, giusto? Assolutamente sì. Il discorso come ti dicevo nasce da Settimio che era un ceramista abbastanza classico come Gusto ma un imprenditore molto lungimirante che resosi conto che a Umbertide non c'era una tradizione come quella di Deruta per la ceramica o di Gualdo e quindi per avere successo doveva inventarsi qualcosa di nuovo. Chiama a questo proposito da Roma su un nipote Dante Baldelli che aveva vent'anni e lo chiama a fare il direttore creativo della Rometti e lui porta. C'hai capito vent'anni il direttore creativo? Tendiamoci conto. Signori che ci governate oggi insomma largo ai giovani. Cambiato tutto. Allora, ecco esatto. No, non solo, lui porta Corrado Cagli che aveva 18 anni. Ecco. E Mario Di Giacomo che ne aveva sempre 20. Questi tre ragazzi arrivano e portano Umberti all'avanguardia, una cosa pazzesca perché portano le influssi, le cose studiavano all'università, in accademia, le influssi del futurismo, della Bauhaus, del razionalismo. Bauhaus che compieranno i prossimi cent'anni. Esattamente. C'è un servizio da te che è esattamente, precisamente, un motivo decorativo della Bauhaus. Quindi c'erano dei rapporti assolutamente stringenti tra la ceramica Rometti di Umbertide e la Bauhaus. Fantastico. Umbertide e la Bauhaus. La cosa divertente, come ti dicevo, è che è una cosa molto carina e interessante, che il futurismo, specialmente, era un'avanguardia molto, molto coi piedi ancorati nella realtà, nel senso che si proponevano, a risultato con risultati alterni, di avere un impatto proprio sulla vita delle persone. Quindi facevano dai vestiti, facevano la tuta, per esempio. È una cosa nata con i futuristi, il pezzo unico, la Salopette, diciamo. E pertanto i futuristi che nascevano nelle grandi città, Milano nascono e a Parigi, cantavano il progresso, la macchina, la velocità, la guerra, tutte queste cose. In Umbria non c'era né la guerra, per fortuna, ma non c'era nemmeno il progresso, non c'erano le strade asfaltate, figurati le macchine e i treni che andavano a velocità folle. Buccoli calmassi. E quindi c'è questa declinazione assurda, che io credo anche è abbastanza originale, senza altri grossi esempi, insomma, per fare dei paralleli, con un futurismo agreste. Abbiamo le linee forze dei futuristi, abbiamo la tensione, il movimento, il dinamismo di un seminatore, di un omino che sta lì. Oppure l'alzata della caccia, c'è questo piatto meraviglioso di Baldelli dove c'è un signore con il fucile, con una sintesi formale pazzesca, creato proprio in due linee, ecco perché il design, c'è una sintesi formale pazzesca davvero, e c'è questo signore qui con questo fucile in mano che appunto va a caccia sui boschi intorno a un vertide. Pazzesco. E per anni hanno fatto, hanno fatto, hanno declinato questo futurismo all'umbra, alla contadina, ecco, alla contadina. Ok, ma veniamo ora, ci hai spiegato un po' come è strutturato l'edificio, cosa vedremo, cosa troveremo da qui a, facciamo sei mesi, all'interno di questo museo? Allora, moltissime cose, ci abbiamo lavorato tutta l'estate, abbiamo già fatto laboratori didattici con dei bambini, abbiamo cominciato a portarci già diverse persone all'interno e tra l'altro abbiamo avuto ottimi riscontri perché sono tutti molto estasiati in realtà, poi effettivamente, perché quello che si racconta lì dentro è una storia molto originale, è anche molto piacevole, non è una cosa pesante, assolutamente, tutt'altro, io poi la detesto, io amo la leggerezza, come sai, insomma, mi segui, ci conosciamo da terra. Siamo persone leggere, siamo persone leggere. E pertanto l'idea è quella, chiaramente, di custodire questa memoria, ma di essere un attore che sappia poi scrivere storie, storie nuove. E quindi stiamo attrezzando quello spazio che già è bellissimo dal punto di vista museale per renderlo anche sfruttabile, spendibile invece da un punto di vista più culturale in senso lato. E quindi sarà, questo lo dico praticamente in anteprima, una seconda sala del Cinema Metropolis di Umberti, le pensate che cosa pazzesca, un cinema all'interno del museo, che è una cosa che tra l'altro la fanno molti musei, è una cosa assolutamente sul pezzo, ma lì sarà praticamente impostazione fissa. Poi chiaramente le sedie, proiettori e tutto il resto saranno tolti e rimessi per le occasioni. Lì la selezione filmica sarà naturalmente all'altezza dignitosa, assolutamente rispettosa dello spazio. Niente cine panettone. Niente cine panettone. E quindi quello sarà un aspetto che assolutamente vogliamo implementare. Poi chiaramente vorremmo fare appunto i corsi, come ti dicevo a te, delle masterclass di design, dentro si può fare assolutamente qualunque cosa, perché la Rometti in questo momento è gestita, il proprietario della Rometti è Massimo Molini, che saluto caramente, con cui in questi mesi abbiamo appunto avuto fitti rapporti, che è una... Molini dell'olio, Molini, giusto per intenderci. Esattamente. Che è un imprenditore assolutamente illuminato, eccentrico, molto simpatico e disponibile, che ci sta aiutando anche proprio dal punto di vista dei contatti, ci ha messo a disposizione moltissime delle sue competenze, i suoi spazi, il suo laboratorio meraviglioso, ha voluto che i bambini facessero un laboratorio di decorazione della ceramica direttamente lì, e ci ha messo a disposizione dai colori ai vasi, sì, molto molto bello. E in ultimo, chiaramente, presentazioni di libri, tutto quello che fa un centro culturale. La cosa che hai in più è che appunto intorno a te, oltre all'oggetto in quel momento che tu stai ascoltando la persona, all'oggetto che stai vedendo, insomma, sei in una situazione pazzesca, perché è un museo bellissimo, anche dal punto di vista strettamente museale, espositivo, hanno fatto un lavoro, quando è stato costruito nel 2011, veramente fatto bene. Bello, mi dicevi anche che c'è un premio giusto che viene istituito? Esatto, sì, nel 2013 Massimo ha voluto istituire questo premio Rometti, in realtà facendo un parallelismo. Lui diceva, ha fatto questo ragionamento, nel 27, nel 28, il successo della Rometti è stato a chiamare dei ragazzini. Certo. I ragazzini che hanno spaccato in due la ceramica Umbra. Pazzesco. Pazzesco. E quindi l'idea è quella di fare questa cosa, di portare forze nuove, portare idee, che chiaramente poi si vengono a confrontare con questo portato di storia enorme, e quindi c'è questo scambio. I ragazzi portano l'entusiasmo, loro gli danno le competenze, gli danno questa storia, il genio su loci, diciamo, no? Certo. E escono fuori delle cose che recano sicuramente il segno della storia della Rometti, ma d'altra parte sono delle cose che appunto vengono fatte da ragazzi che provengono dall'istituto dei design di Washington, di Bruxelles, di Perugia anche, e quest'anno c'è la sesta edizione, la premiazione sarà il 22 settembre, dei primi tre premi, saranno esposti chiaramente al museo poi in pianta stabile queste opere, e naturalmente poi c'è anche la possibilità che poi vengono commercializzate e effettivamente messe poi in produzione dalla Rometti. Bello, fantastico. Per chiudere, visto che siamo andati velocissimi, ti dico i contatti, dove trovarvi, appunto mi hai detto che avete aperto anche Instagram da pochissimo. Sì, abbiamo un account, sì, l'altro ieri, abbiamo Instagram oggi, Instagram due ore fa, quindi Museo Rometti su Instagram, Museo Rometti pagina su Facebook, stiamo lavorando al sito, ma per ora comunque qualcosa, c'è già sul sito del PostMod del Metropolis, c'è già la pagina apposita del museo. Siamo in piazza Carlo Marx a Umbertide, numero zero, senza numero civico. Carlo Marx zero, bellissimo. Sì, Carlo Marx zero. Io sono Davide, vivo a Elce, telefonatemi, venite a suonare e tranquillamente vi apro. Lo taggerò su questo posto. E ne parlerò tantissimo. Bene, è stato fantastico, sicuramente ci rivedremo per raccontare altre cose di questo museo. Posso dire un'ultimissima cosa? Hai tretto secondo. Sempre il 22 settembre ci sarà anche la presentazione di una mostra pazzesca, anche questa di un'anteprima, di sculture ceramiche di Lucio Fontana e Leoncillo, curata da Lorenzo Fiorucci, un bravissimo critico, molto giovane anche lui. E quindi per tutto ottobre il museo sarà aperto con le cose nuove del Pembrometti e con questa mostra molto molto importante, specialmente per il contesto in cui è calata, che è una piccola città. Che però spaccheremo esattamente come 90 anni fa hanno spaccato la cultura della ceramica per i ragazzini là. Io sono convinto. Spaccheremo sicuramente tutti. Fantastico. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Andiamo alla diretta.